Certamente il negazionismo è qualcosa di intollerabile, il revisionismo lo è altrettanto e dunque è importante anche rafforzare la memoria, il lavoro con i giovani, portare i giovani nei luoghi della memoria perché tutto ciò non può essere dimenticato. L'Europa nasce sulle cenere di questa drammatica tragedia, quella dell'olocausto, tutte le nostre costituzioni partono da lì e questo deve rimanere vivo specialmente in un tempo di crisi in cui c'è chi invece cerca il capo spiatorio in comunità che sono assolutamente integrate e fanno parte della nostra cultura.